Un lampione lasciato acceso da settimane senza che nessuno se ne prenda carico è l'emblema dell'abbandono in cui si trova l'impianto sportivo di Santa Barbara, uno dei più avanzati e dotati da Abruzzo. Gli impianti sono inutilizzati da un anno dopo l'ultima sentenza del Consiglio di Stato che ritene illegittimo il contratto rinnovato dal Comune alla società che gestiva gli impianti, la Verde Acqua. Un caos in cui avrebbe dovuto mettere mano proprio il Comune con un nuovo bando per la gestione degli impianti e dunque la nuova manutenzione. Un passaggio di cui non si sa ancora nulla, mentre 34 lavoratori sono senza lavoro e molti di loro non ricevono nemmeno la Naspi. La situazione è drammatica perché noi come ex lavoratori siamo in attesa di garanzie per sapere quando è possibile rientrare a lavorare, perché comunque non piace a nessuno stare con le mani in mano. Siamo senza stipendio da agosto 2018 fino a marzo, non abbiamo percepito stipendio dal vecchio gestore che comunque doveva pagarci questi stipendi arretrati compreso il TFR. Per il momento ci troviamo in Naspi che è una indennità di disoccupazione da aprile ad oggi. Nel frattempo tante professionalità rischiano di perdersi sia dal punto di vista degli allenatori, diciamo così, sia dal punto di vista degli atleti che si allenavano qua dentro. Certamente, perché comunque mantenerti attivo dove l'impianto ti è stato chiuso, ti ritrovi con tutti gli impianti natatori della città dell'Aquila completamente pieni, dislocati diversamente, non è più facile né per un atleta adolescente o che ha i propri mezzi di locomozione per raggiungere, né per le famiglie portare i bambini a riuscire a fare le stesse attività. Questo era un posto di lavoro per tantissime persone perché al di là dei dipendenti stretti della cooperativa Verde Acqua aveva anche tantissimi dipendenti e le altre società che qui lavoravano, tipo le società di calcio, tipo le altre società di nuoto, la palestra, tutto un personale che era da satellite intorno a questo impianto.